Siamo partiti. E quindi dovremmo perdere con la fine di Yom Tov come succede il sabato sera e dovremmo comunque compensarla con i Bessamimi, invece non si fa. Per quale motivo? Spiegherebbe di Kotzk che Yom Tov, a differenza di Shabbat, mentre Shabbat è una creazione di Dio e quando Shabbat se ne va, quando Dio se lo porta via, si porta via anche la nostra Neshamaya Terah e quindi abbiamo bisogno di ristoro, in realtà Yom Tov è diverso. Yom Tov è una creazione del popolo d'Israele. Gli Yamin Torim sono fatti dagli eventi storici del popolo d'Israele e la Neshamaya Terah di Yom Tov è una Neshamaya Terah che dipende da noi, non dipende da Kadosh Baruch Hu e permane alla fine di Yom Tov anche dopo che Yom Tov è finito. Ecco perché non facciamo la Berakha di Bessamim dalla fine di Yom Tov, non ce n'è bisogno, perché l'atmosfera di Yom Tov dura ancora del tempo dopo che Yom Tov non c'è più. E quindi oggi che insomma siamo a pochi giorni ancora dalla fine di Yom Tov possiamo dire che sentiamo ancora questa Neshamaya Terah ed è il momento ideale, vi detterete, per cominciare a studiare. Quest'anno abbiamo detto che studiamo il primo capitolo del Trattato Shabbat della Mishnah e della Gemara e ci occuperemo della trentanovesima categoria di Melakha, nell'ordine che la stessa Mishnah dà nel settimo capitolo, ed è la Melakha di Oza'amere Shut Dershut, di trasportare oggetti da un dominio all'altro, o come vedremo anche all'interno dello stesso dominio nel caso del dominio pubblico. Di questo ovviamente ci occuperemo. Oggi faremo una lezione introduttiva e alla fine scopriremo anche perché la Mishnah e quindi la Gemara parte dall'ultimo argomento, invece di partire da primo. La Melakha di trasportare ha uno status particolare, ha una dignità particolare, ci sono diverse motivazioni per questo, vedremo cosa scrive il Rambam in proposito del suo commento alla Mishnah. Ma prima di arrivare a tutto questo, quello che volevo fare questa sera è studiare anzitutto alcuni versetti nella Torah che tradizionalmente vengono messi in relazione con questa Melakha, studiare le regole e le sommarie sui quattro domini che fanno da sfondo a questa Melakha e infine studiare la prima Mishnah con i commenti tradizionali alla Mishnah che sono quelli essenzialmente di Berti Noro e del Rambam, come già dicevo. Questo è quello che volevo fare stasera, dalla prossima settimana rivedremo la Mishnah con il commento di Rashi e delle Tossoforte e a questo punto avvieremo anche lo studio della Gemara. Però è chiaro che l'argomento è talmente interessante da un lato, complesso dall'altro, che un minimo di introduzione evidentemente ci vuole, si richiede. I versetti che ti ho proposto emergeranno naturalmente nei commenti che studieremo, però come è sempre mia abitudine cominciare lo studio della Torah Shebe Alpe passando attraverso la Torah Shebe Alpe e quindi studiamo adesso questi tre versetti, ciascuno per conto proprio dopo che di che pian pian pianino entreremo nella Torah Shebe Alpe. Il primo versetto è tratto dal capitolo 16 di Shemot, cioè dalla Parashat di Beshalach, dove si parla della manna. Tu sai, la Torah lo racconta lì in quel capitolo, che la manna si rendeva disponibile tutte le mattine per il popolo ebraico nel deserto all'infuori di Shabbat. A proposito di Shabbat, fra le altre cose che troviamo nel capitolo, troviamo anche questa ingiunzione. Nessuno esca dal suo luogo, cioè dalla sua residenza, nel settimo giorno. Come viene interpretato questo versetto? C'è chi dice che Alticre, Yetzè e Laiozì, non non esca nessuno, bensì non trasporti nessuno al di fuori del proprio posto nel settimo giorno, ma molto più semplicemente questo versetto che parla del divieto di uscita può essere interpretato in maniera diversa. Uscire, per quale scopo? Allora c'è una prima interpretazione che dice che qui si allude al divieto dei Tehumin, cioè al divieto, non al divieto di trasportare, dato che si parla propriamente di uscire, ma al divieto di uscire fuori dal Tehumin Shabbat. Il Tehumin Shabbat, lo vedremo, è l'estensione dell'accampamento e corrispondeva a 2000 amot, che è circa un chilometro. E ancora noi oggi, pur non trasportando niente, e pur camminando, spostandoci a piedi, cosa che di per sé non infrange alcuna melachà, noi non possiamo uscire dal luogo in cui viviamo, piccolo o grande che sia, per oltre 2000 amot, per oltre un chilometro circa. È quello che si chiama Tehumin Shabbat. Una seconda interpretazione di questo versetto, alla quale ho già accennato e che ci interessa, riguarda invece la melachà di trasportare. agli e cè, agli o zì, in realtà non c'è bisogno di, come si dice, di intervenire sul verbo. È ovvio che qui si parla di un'uscita delle persone allo scopo di raccogliere la manna, cioè di trasportarla. E quindi anche senza intervenire sulla forma verbale, è chiaro che qui uscire allude al trasportare. È come se fosse scritto nessuno trasporti. Questo è il primo genno alla melachà di trasportare nei versetti della Torah. Pochissime melachot in realtà hanno un genno esplicito, un'espressione esplicita nella Torah, delle 39. Le 39 categorie di melachot si imparano dalla parasha di Vayakhel attraverso un procedimento interpretativo del versetto. Il secondo versetto è tratto proprio dalla parasha di Vayakhel. Siamo al capitolo 36 di Shemot, al verso 6. La parasha di Vayakhel, dopo aver ribadito la mitzvah dello Shabbat, si occupa della costruzione del Mishkan. E da lì appunto i nostri maestri deducono che le melachot proibite di Shabbat sono le stesse che sono servite per la costruzione del Mishkan. Nel racconto fattivo della costruzione del Mishkan, che era stata anticipata nelle parasha precedenti, in particolare nella parasha di Terumah, sotto forma di progetto, qui troviamo la sua realizzazione. E ad un certo punto la Torah dice E fecero girare una voce nell'accampamento dicendo Non facciano più alcuna melachah per l'offerta delle cose sacre. A quale melachah si allude, secondo te? Aspetta di leggere il versetto fino alla fine. E il popolo si trattenne dal portare. Secondo una delle interpretazioni, anche qui ce ne sono diverse, che i Chachabil danno, l'invito di Moshe al popolo era di sospendere il trasporto delle offerte, del materiale necessario, del Kodesh, delle cose sacre, delle offerte sacre che erano necessarie per la costruzione del Mishkan. Guarda il Baal Aturim che cosa dice in proposito. Il Baal Aturim riferisce un Midrash che dice Il Baal Aturim ricostruisce come si può dire, il retroscena di questo versetto e dice C'è un'opinione nel Talmud secondo cui la Torah è stata data di Shabbat. Pertanto il giorno di Kippur di quell'anno, alcuni mesi dopo, è stato di martedì. Ok. Sappiamo che la costruzione del Mishkan è stata ordinata il giorno dopo Kippur, e quindi di mercoledì. Dice il versetto che il popolo fornì gli oggetti, il materiale necessario, il versetto dice Al mattino, al mattino, vuol dire dice il Baal Aturim verano iom hei e iom vab, il giovedì e il venerdì. A questo punto la scena descritta nel nostro versetto avviene il giorno dopo, cioè il Shabbat. e il Shabbat va aizav Moshe va a avivare il colo in meccanee, ish e isha li aseru od melaka di tromata Kodash. Il Baal Aturim è un esperto di gematriot e sostiene che la gematria di tutto questa espressione equivale ad un'altra espressione be gematria Aspetta. La seconda contenzione non è che questo emerga solo dalla gematria. La gematria è un modo mnemonico per ricordarlo meglio, se vogliamo. Il concetto è già presente nelle parole stesse. Quel va i kale ha amme avì, il popolo si trattene dal trasportare dopo l'oggetto, dopo il, come si dice, dopo l'appello di Moshe di fermarsi, perché di materiale ce n'era abbastanza, così dicono i versetti vicini, si riferisce a un trasporto dal Reshut Ayahid al Reshut Arabim. Il Mishqad si trovava nel Reshut Arabim, adesso lo vediamo poi, Makhanele Viya, nel Reshut, lì veniva raccolto questo materiale e da cui valeva al Reshut Arabim, il Reshut Ayahid da cui il materiale partiva era la casa di ciascuno. Ecco che abbiamo qui una configurazione ancora più precisa rispetto al versetto che parlava della manna, del divieto di trasportare di Shabbat. Il motivo della sospensione ordinata da Moshe era lo Shabbat. naturalmente. Ok. Questo perché? Perché la Melecheta Mishqad non aveva luogo di Shabbat. Questo è un altro punto. I lavori per il Mishqad si fermavano di Shabbat. Non la Avodah. I sacrifici avvenivano anche di Shabbat. Ma la costruzione del Mishqad di Shabbat si fermava. Il terzo versetto che troviamo nei commenti e che è utile conoscere è un versetto che ci fornisce un dettaglio tecnico che non riguarda solo la Melecheta di Portare ma riguarda tutte le 39 Melechote in generale. Il versetto dice Il versetto è tratto dal libro di Vaikra il capitolo 4 verso 27 Parashah di Vaikra dove si parla delle varie tipologie di sacrifici. In questo caso si parla del Corban Khattat. Il Corban Khattat era richiesto a tutte le persone che avevano commesso Bishgagà cioè per dimenticanza una trasgressione che se commessa a Bemezid viene punita col caretto. Fra queste anche lo Shabbat. Il versetto che cosa ci dice è giamolo e traduciamolo Veim Nefeshachahat Techetah Bishgagà Mea Ma'aretz Se una sola persona Pecchi Bishgagà per l'appunto per dimenticanza del popolo della terra Facendo una delle mitzvoti che non si devono fare cioè compiendo una trasgressione rispetto alle mitzvoti e sia colpevole Veashem con la colalef davanti deve portare il sacrificio spiatorio eccetera 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 Che cosa ci insegna questo versetto rispetto a quello che già conosciamo su questo argomento? Il Bala Turim di nuovo commenta che il Corban è dovuto soltanto se questa persona ha compiuto la trasgressione interamente da solo se invece la trasgressione o l'atto trasgressivo è stato diviso tra due persone il Khattat non è dovuto non è più considerata una trasgressione della Torah di nuovo il Bala Turim ricorre alla Gematria dice che il valore numerico della parola Baasotà equivale a quello dell'espressione Im Kulave Lomikzata cioè se tutta e non solo in parte in realtà senza ricorre alla Gematria c'è una parola apparentemente superflua in questo versetto che ci insegna lo stesso concetto ed è la parola Baasotà Baasotà Ahatmi Mitzvot Hashem Hashem lo Teasena non vuol dire che il Khattat è dovuto solo se uno ha fatto una trasgressione e non altre vuol dire invece che per essere nell'obbligo di portare il Khattat bisogna che uno abbia fatto una trasgressione tutta intera anziché dividere fra due o più persone ok capito questo vale per tutte le Melachot ok qualsiasi Melachat che una persona sia tecnicamente in grado da sola è passibile per la trasgressione di questa Melachat di Shabbat solo se la fatta tutta da sola se io ho avuto un socio nell'esecuzione della Melachat proibita nessuno dei due prende la pena in base a questo versetto che richiede come dice il passando attraverso la grammatria è chiaro? Sì mi viene difficile pensare come si possa dividere in due la Melachat di portare la versione del trasporto esatto e lo dico subito anticipando un argomento che verrà successivamente ok e lo dico subito ah col passaggio uno passa e l'altro prende sì potrebbe essere sì è esattamente così anzi proprio la Melachat di portare si presta benissimo è vero il trasporto di un oggetto si divide tecnicamente in due parti sollevare l'oggetto dal luogo di partenza si chiama in ebraico Akira sradicamento letteralmente e il posarlo nel luogo d'arrivo si chiama in ebraico Hanaha posizionamento non è detto che tutte e due le azioni siano fatte dalla stessa persona questo lo vedremo poi quando studieremo l'amistà con chiarezza va bene nella maggior parte dei casi è la stessa persona a fare sia la Akira che l'Anaha dell'oggetto certo viene insegnato qui che per essere passibili di pena vedremo poi esattamente quali pene comunque Karet o addirittura Sekila in caso di trasgressione volontaria Korban Khattat in caso di trasgressione Bishgagah cioè per dimenticanza o della regola che proibisce questo tipo di azione di Shabbat o semplicemente del fatto che oggi è Shabbat ho trasgredito perché credevo fosse venerdì certo quale che sia la pena la prende solo chi esegue sia Akira che Anaha cioè chi esegue l'azione di portare in maniera trasgressiva dall'inizio alla fine se invece sono due persone che collaborano una fa la Akira dell'oggetto lo passa di mano all'altro e l'altro fa in un altro posto dove è proibito portarlo siccome sono due persone in questo caso nessuna delle due è punibile però commettono comunque un divieto un'infrazione si tratta di un'infrazione rabbinica i rabbini hanno proibito comunque anche una sola parte dell'azione per evitare che uno arrivi a farla tutta e a incorrere nel divieto della Torah con tutte le conseguenze di cui abbiamo parlato capito chiarissimo è chiaro? sì ha un discorso anche così molto interessante assolutamente vero qual è il teatro di tutto questo? in che cosa consiste il trasporto proibito? se io sono seduto al tavolo in casa mia e tu sei seduto dall'altra parte del tavolo e ti passi una forchetta infrangola il divieto di trasportare? a casa tua no no attenzione non conta qui la proprietà nel senso economico della parola contano altri fattori persino se il luogo di cui stiamo parlando non fosse casa mia o casa tua ma fosse un luogo pubblico una volta che ha determinate caratteristiche può essere considerato un dominio privato ai fini del discorso che stiamo facendo e nel dominio privato è permesso in linea di massima qualsiasi trasporto il problema si pone adesso lo vedremo quando abbiamo a che fare con altri tipi di domini e a questo proposito darei un'occhiata al chizur shulchanaruch che è un testo di Alakha diciamo così molto noto al siman peale fa il capitolo 81 parla degli alba reshuyot del shabbat ci dice che i domini di shabbat ai fini della melakha di portare sono quattro e a questo vediamo a questo punto vediamo che cosa ci dice il chizur shulchanaruch nel primo saif ci dice alba reshuyot del shabbat i domini di shabbat sono quattro e li nomina il reshut ayahid dominio privato o dominio del privato reshut arabim dominio della collettività il karmelit strana parola di cui parleremo dopo e il mekom petor cioè letteralmente luogo esente o luogo dell'esenzione diamo qualche raguaglio su ciascuno di essi brevemente saif bet ese reshut ayahid che cosa si intende per reshut ayahid cioè per dominio privato o dominio del privato qui i dati che ci vengono dati vanno memorizzati ma com sehu lechola pa'hot al ba'at tefahim al ba'at tefahim è un'area che abbia almeno le dimensioni di un quadrato con quattro tefahim per lato quattro palmi per comodità diciamo che il palmo sono circa dieci centimetri in realtà potrebbero essere anche otto per comodità diciamo che ha un'area pari a un quadrato con 40 centimetri 40 centimetri quadrati perché perché queste sono le dimensioni minime in orizzontale in larghezza e lunghezza di un'area che può essere utile meno di così non ha rilevanza vedremo che parleremo a questo punto di Mecompator ma dopo lo vedremo dopo come Compa Compa Tour fermiamoci per il momento a Raschuter quindi un'area di almeno 40 centimetri quadrati non solo non basta ci vuole anche una definizione in altezza circondato da pareti che siano alte almeno 10 tefagini circa un metro 80 centimetri circa un metro diciamo partiamo dal presupposto per comodità che un tefagini un palmo siano 10 centimetri attenzione non è detto che si debba trattare di pareti può anche trattarsi di una buca che sia profonda 10 tefagini ovviamente in verticale per cui questa altezza non è valicabile insomma pur che sia larga almeno 4 tefagini cioè 40 centimetri per lato come abbiamo detto anche come si dice il il burrone chiamiamolo così di una buca è considerato la stregua di una parete nella misura in cui è invalicabile verticale quindi invalicabile può essere una buca può essere un pozzo ma anche 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 un cumulo in altezza che sia alto a sua volta almeno 10 tefagini con un come si dice un dirupo invalicabile e abbia anch'esso in orizzontale in larghezza e lunghezza 40 centimetri per lato l'altra caratteristica del reshuta yachid che solo il reshuta yachid ha è che il reshuta yachid si estende fino al cielo va a vir reshuta yachid l'aria che sovrasta il reshuta yachid è anch'essa considerata reshuta yachid fino al cielo che importanza ha questo che se un oggetto parte dal reshuta rabbino e viene scaricato nel reshuta yachid anche se non raggiunge materialmente il reshuta yachid in basso ma per qualche ragione si ferma in alto viene intercettato ma nell'aria del reshuta yachid cioè nel cono come si può chiedere come si chiama in italiano c'è un'espressione l'aria sì diciamo nello spazio aereo ecco così nello spazio aereo del reshuta yachid è considerato comunque un trasporto dal reshuta arabim al reshuta yachid e quindi soggetto a infrazione come studieremo questo è il reshuta arabim cosa intendiamo per reshuta arabim cioè reshuta della colguità si tratta di vie o piazze shvakim è il plurale di shuk noi oggi lo traduciamo mercato ma il mercato in realtà era la piazza del mercato quello che in inglese si chiama marketplace wow ok indica cioè un luogo pubblico dove che il pubblico effettivamente utilizza o per spostarsi o per attività connesse con la collettività che sia di almeno 16 amot per 16 amot 8 metri sì anche qui diciamo che la amma è circa 50 centimetri in realtà una amma sono 6 tefakini ok diciamo per comodità come dici tu certo mezzo metro quindi è un quadrato con 8 metri per lato perché chi ci autorizza a calcolarlo in questo modo perché questa era la larghezza della strada che percorreva l'accampamento dei leviti nel deserto e l'accampamento dei leviti abbiamo detto che era il Rashid Arabim dove si ricevevano le offerte per la costruzione del Mishkan e più in generale dice le strade interurbane che abbiano una larghezza di almeno 16 tefakini 16 amot cioè 8 metri sono considerate Rashid Arabim 8 metri non sono tanti per una strada forse a quell'epoca era più eccezionale non lo so 8 metri di larghezza naturalmente c'è chi dice c'è chi dice perché quest'area sia definibile come Rashid Arabim ed è una clausola molto limitante la clausola è che si può considerare Rashid Arabim soltanto oltre a un'area che oltre ad avere le dimensioni di cui abbiamo parlato veda il passaggio di 600.000 persone ogni giorno come accadeva fra i vessilli del deserto nell'accampamento nel deserto di Gleimit Bah altrimenti non è Rashid Arabim Bellah Karmelit bensì è semplicemente un Karmelit di cui parleremo a breve Bellahen Basvanase secondo questa opinione pertanto al giorno d'oggi è l'anno Rashid Arabim praticamente Rashid Arabim non esiste diventa Rashid Arabim soltanto piazza del Duomo eh infatti 600.000 persone al giorno Times Square esatto dice però che ogni temente del cielo dovrebbe essere rigoroso con se stesso e considerare quindi Rashid Arabim anche quelle strade che hanno le dimensioni ma non hanno questa portata questa è la psica del Kitsushul Hanau ok e se è un Karmelit a questo punto e cos'è il Karmelit il Karmelit è una via di mezzo fra Rashid e Rashid Arabim in sostanza è un luogo dove non c'è il passaggio della moltitudine non è un luogo frequentato diciamo in buon italiano quindi non può essere considerato Rashid Arabim ma non è neanche circondato da pareti come si deve e quindi non possiamo neanche considerarlo pienamente un Rashid che gonne come per esempio assadotte la campagna v'nahar o un fiume che è amore alle le quali le quali sarai tefakhim che sia profondo almeno dieci tefakhim e largo almeno quattro tefakhim ma ovviamente un fiume non ha nessuna frequentazione non ha nessuna frequentazione d'altronde non sono delle vere propie mechizot queste qui che non potrebbero caratterizzare come la nascita iachid e quindi un mercato che c'è 4 alla 4 maoccavi mechizot che non c'è un'alternativa si considera carmelita anche un luogo che abbia le dimensioni del reshut a yachid in orizzontale cioè 40 centimetri per lato ed è anche circondato da pareti ma queste pareti non sono alte dieci tefakhim sono più basse è una mechizah che non ha dieci tefakhim non è considerata una vera e propria mechizah ci sono anche molti altri casi che rientrano nel carmelita in pratica si considera carmelita tutte quelle aree che non sono che sono a metà strada in qualche modo fra il reshut a yachid e il reshut a rabbino e non hanno completamente nelle caratteristiche di uno nelle caratteristiche dell'altro da dove deriva la parola carmelit un leshon dice rach mal perush lo lach ve lo yavesh si intende qualche cosa noi diremmo oggi di parve che non è né né umido né secco è la benoni qualcosa di mezzo ahiname lo reshut a yachid allo stesso modo del carmelit non può essere considerato un reshut a yachid e fiche hanno mechizot carrui per kenona le pareti dell'altetsa prevista e gav lo reshut arabim ma non è neanche un reshut arabim e fiche nera bim che non è un luogo frecuentato ok che cosa si intende e qui siamo al quarto dominio ormai per me competor che cosa si intende per luogo esente o luogo dell'esenzione in generale adesso lo vedremo si deve trattare di qualcosa che è persino al di sotto del reshut a yachid si intende qualsiasi area nel reshut arabim che non abbia le dimensioni del reshut a yachid in orizzontale cioè abbia sia abbia meno di 40 centimetri per l'alto e quindi capiamo che non è più un bakom khashu però si distacca dal reshut arabim per il fatto di essere più alto del reshut rispetto al reshut arabim di almeno tre tefahim se fosse meno di tre tefahim sarebbe reshut arabim completo perché fino a tre tefahim è considerata una distanza col mag una distanza irrilevante oltre che è alto almeno tre tefahim non è più reshut arabim ma non ha le dimensioni per essere un reshut a yachid allo stesso modo un bor un pozzo che non abbia 40 centimetri per lato ma sia profondo almeno tre tefahim qui c'è di mezzo il dindilavud faremo un'altra volta oppure deve trattarsi semplicemente di un'area che non arriva ad avere 40 centimetri per lato ma è circondata da pareti alte almeno tre tefahim vechol ellu davka che sehen birrushu tarabim è il mekom petor purché queste aree sorgono nel reshut arabim avvalim en becharmelit avehen gamken carmelit se però sorgono in un carmelit se il terreno dal quale partono è un carmelit restano carmelit quindi il mekom petor ha la sua base solo nel reshut arabim ok abbiamo studiato le varie tipologie a questo punto nel siman peybet nel capitolo 82 il chizur shul khanaruch ci chiarisce le idee su quali sono i divieti legati alla azione di portare prima regola birrushu tarabim urkarmelit assur letaltelshum davar baramot all'interno di un reshut arabim o all'interno di un carmelit è proibito trasportare qualsiasi oggetto per almeno 4 amot circa 2 metri nel reshut arabim il divieto dell'oreita nel carmelit il divieto è midi rabbinano perché il carmelit non ha tutte le caratteristiche del reshut arabim però i khachamim hanno esteso al carmelit anche i divieti relativi al reshut arabim per evitare che se uno si trova in un carmelit e trasporta si sbaglia e arriva a trasportare anche nel reshut arabim nel qual caso commette un'infrazione del orait certo non solo trasportarlo con le mani ben l'assettoto ben l'isrocoto ben l'eroshitoto è proibito anche gettarlo cioè anche se la persona non accompagna l'oggetto nel suo traiettore lo lancia una volta che lo hai lanciato oltre più esattamente ad almeno 4 amot di distanza da te nel reshut arabim nel carmelit in franji l'amelaka del oraito dell'arbanan ben l'eroshitoto anche passarlo così veniva con l'assett per la costruzione del mischak ben l'eroshitoto anche passarlo l'altro non solo tutto ciò è proibito ma è proibito anche fa una furbizia beh io devo trasportare un oggetto per la strada non posso trasportarlo per 4 amot cosa faccio lo trasporto per 3 amot e mezzo lo metto per terra lo riprendo in mano faccio altri 3 amot e mezzo e così pian pianino copro la distanza dice anche è una forma di ha la macchia è una forma di imbroglio termine informatico un workaround è chiaro? sì questo è il primo divieto che riguarda il reshut arabim o il carmelit al proprio interno il secondo divieto che è quello che ci interessa in particolare per quello che riguarda la mishnah che andremo a studiare è proibito opposta cioè partendo da un reshut arabim o da un carmelit per farlo arrivare nel reshut il reshut arabim Mammi dei Rabbanan però è anche vero che osservando le cose dal punto di vista della Torah il Carmelit ha delle caratteristiche che lo avvicinano invece alla Reshut Ayachid e quindi noi non possiamo portare neanche da un Reshut Arabima a un Carmelit o viceversa anche meno di 4 ammott qui in questo caso quello che conta è il passaggio del confine qual è l'unica oasi di libertà in tutto questo di libertà di trasporto quando parliamo del luogo dell'esenzione quello piccolino si può trasportare da un mecompetor a qualsiasi altro dominio e viceversa con l'unica clausola che tu non trasporti nel Reshut Arabim o nel Carmelit l'oggetto per più di 4 ammott questo è il quadro generale della cosa non ne manca una di ipotesi dal Reshut Ayachid dal Reshut Ayachid a un altro Reshut Ayachid adiacente di questo parleremo più avanti di questo effettivamente parleremo più avanti noi ci concentriamo sul Reshut Ayachid e il Reshut Arabim che sono i due Reshuyot fondamentali secondo la Torah Pronto? Partiamo con la Mishra? Buonissimo il Reshut Ayachid il Reshut Shabbat lo volevi leggere da qua? Sì sotto c'è il Bertiloro vero? non lo so finisce qui? ce l'ho ce l'ho qua ce l'ho così no no non ti avevo mandato le altre cose questo qua guarda solo questo ma sotto dovrebbero esserci delle altre cose eccole qua sì 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 tutto c'è tutto letteralmente le uscite del sabato sono due che diventano in realtà quattro di Fnim all'interno e due che diventano quattro all'esterno cosa significa questa frase? bella domanda la Mishra ce la chi arriva ok guardiamo un attimino il commento di Bertiloro Yeziota Shabbat è strana questa espressione le uscite del sabato in realtà non ci dovrebbe stupire perché se ti ricordi il primo passuk che abbiamo studiato nella parasha di Beshalach usava al posto del verbo trasportare il verbo uscire al yezei ish mim mekomo bayoma shabbat nessuno esca dal suo luogo nel giorno di bayoma shvi chiedo scusa nel giorno settimo con riferimento al trasporto della manna giusto? sì sì come avrebbe usato nel versetto non è l'if'il non è detto al yotzi è scritto al kal al yezei e la Mishnah qui riecheggia questo fatto e Bertiloro commenta e dice hozzàot che merisù l'irshù l'irshù l'amorot ezzel sabbat v'each nasot name kakare ietziot po'il umocì merisù l'irshù con il termine uscite del sabato la Mishnah intende lehozzàot che è trasporti da un dominio all'altro di cui si parla a proposito dello shabbat e anche leach nasot sono chiamate ietziot qui ho tradotto male la parola ozzàot le ozzàot sono le fuor i trasporti al di fuori le fuor uscite e leach nasot sono gli ingressi cioè le azioni che permettono a un oggetto di essere portato dentro entrambe sono chiamate nella Mishnah qui ietziot com'è che si può trasportare si può trasportare un oggetto da dentro a fuori un certo ambiente nel qual caso parliamo di ozzàot si può parlare del trasporto di un oggetto dal fuori al dentro un certo ambiente nel qual caso parliamo di achnasot mi segui bertinoro dice che la Mishnah introduce tutti e due questi argomenti tutti e due con la parola ietziot perché con il umozime reshut dirshut comunque che tu trasporti da dentro a fuori o da fuori a dentro tu in realtà fai uscire quell'oggetto da un dominio all'altro però non spiega perché la doppia adesso non ci siamo ancora arrivati adesso non ci siamo ancora arrivati ok ve haide tanei eziot ve lotta ne hozzàot a questo punto la domanda è perché non usa invece il termine hozzàot che più propriamente significa trasportare fuori piuttosto che ietziot che significa uscire certo parliamo di un trasporto di oggetti non di un'uscita delle persone la mischna sceglie di assumere il linguaggio del versetto di quale versetto si tratta di di da questo verbo verso che usa il verbo uscire ma viene spiegato come se fosse far uscire trasportare la manna da un luogo all'altro nella fattispecie un far entrare perché la manna si trovava nel campo e ciascuno se la portava a casa sua certo ma abbiamo detto che si tratta comunque di una fuoruscita da un dominio all'altro il versetto il versetto significa non esca nessuno con la casa sua con il recipiente in mano per raccogliere la manna quindi in realtà potrebbe anche essere un'uscita da casa al campo e non solo dal campo a casa per trasportare la manna questo diventa rilevante per quello che segue adesso lo vedremo ok stein shen alba cosa significa due che diventano queste yeziot sono due che diventano quattro due che diventano quattro dentro e due che diventano quattro fuori stein minatorah chi è che sta dentro e chi è che sta fuori scopriremo subito che la mishnama a questo siamo già abituati porta degli esempi concreti non delle formulazioni astratte qual è il caso di uno che sta dentro è il caso di uno che sta fuori secondo la mishnama la mishnama parla rispettivamente del ashir e del ani il ricco sta in casa e il povero sta fuori e bussa alla sua porta e cosa fa il povero eventualmente passa al ricco che sta in casa il suo recipiente affinché il ricco glielo restituisca pieno del suo ben di Dio è interessante come la mishnama per affrontare un tema tutto sommato molto tecnico ci offra una visione ci porti un esempio che richiama la vita morale il dovere di evitare i poveri interessantissimo questo torniamo al commento di divertito stai in la Torah due sono le yetziot o le hozzaot proibite dalla Torah e cioè la hozza e la hachnessa leva al abait a omet bifnini bifnini bifnita yachid immaginiamo che è così del ba al abait cioè del ricco che sta dentro nel bifnita yachid e che cosa fa adesso lo vedremo poi direttamente della Mishnah porta fuori l'oggetto il cibo e lo consegna al povero che sta fuori facendo lui tutto lo sforzo sia di sollevarlo da dentro casa che di porlo fuori o viceversa potrebbe fare anche qui tutto da solo lo sforzo di ritirare il contenitore vuoto dal povero che si trova fuori e portarlo dentro a casa per poi riempirlo in questi due casi la stessa persona ha compiuto due azioni complette nella misura in cui in entrambi i casi ha fatto sia la Akira che la Hanaka il sollevamento dell'oggetto dal punto di partenza e il suo posizionamento nel punto di arrivo e quindi che trasportasse l'oggetto all'esterno il cestino pieno di cibo o che lo ritirasse o che lo ritirasse vuoto prima di riempirlo in un modo o nell'altro dal momento che ha fatto sia Akira che Hanaka ha infranto un divieto della Torah certo e qui Bertinoro ci dice a quali conseguenze va incontro per aver compiuto la Melaka tutta da solo per queste due azioni cioè il trasporto dell'oggetto al di fuori o al di dentro tutto da solo se lo ha fatto per dimenticanza Shgagab deve portare il Corban Khattat se l'ha fatto volontariamente è punito col Caret e se l'ha fatto di fronte a due testimoni che lo hanno avvertito di quella della trasgressione che stava per compiere della pena a cui andrà incontro e lui ha risposto lo faccio comunque in questo caso abbiamo la schilà la labedazione come in tutte le altre Melakot di Shabbat a questo punto dobbiamo chiarire cosa significa She'en Arba e il Bertinoro ci dice che i Chachamim hanno aggiunto altri due altri due divieti che però non sono secondo la Torah sono per istituzione rabbinica Mimim intervengono ad aggiungere il divieto, le chatrila, come tutti i divieti rabbini ci sono solo a priori, dove la melachà viene compiuta non da una persona tutto solo, ma da due persone. Uno compie l'achirà dal luogo di partenza, passa all'altro, il quale compie l'apposizionamento nel luogo di arrivo, l'anachà. In questo caso sono in due a farla. Esnaim she'assau a peturim. Se l'hanno fatta in due, sono entrambi peturim. Come dice l'ultimo versetto che abbiamo studiato. Che uno è passibile di pena per aver compiuto una melachà di Shabbat, non se l'ha fatta tutto da solo e non se ne ha fatto solo una parte. E anche qui, La stessa regola vale per tutte le melachà di Shabbat. Diciamo che se uno l'ha fatta da solo, qualsiasi melachà è chayav, se l'hanno fatta in due, sono peturim entrambi. Ok, perfetto. Adesso poi nell'amishtà ci ritroveremo naturalmente in tutto questo. L'amishtà diceva Shtaim she'en al-babifni due che diventano quattro per chi sta dentro, cioè per il balabait, ma sono comunque anche due che diventano quattro per il povero che sta fuori. Anche qui Shtaim in a Torah. Due sono divieti della Torah nel caso in cui il povero ha preso l'iniziativa e ha fatto tutta la melachà da solo, che può consistere o nell'introdurre il recipiente vuoto all'interno della casa, deponendolo nella casa, postando fuori, in maniera che poi il padrone di casa lo riempia, sia se una volta che il padrone di casa l'ha riempito, l'ha lasciato sulla soglia dentro casa sua, il povero lo ritira, facendo anche in questo caso sia l'achira che l'anachà, sia lo sradicamento che il posizionamento. Queste sono le due infrazioni in a Torah, perché in questo caso, anche in questo caso, vengono fatte interamente dalla stessa persona, solo che invece di trattarsi del padrone di casa che sta dentro, si tratta del povero che sta fuori. E anche queste due, diventano quattro, anche in questo caso, i Chachamim hanno aggiunto altri due divieti, da proibirsi a priori, perché sono divieti rabbinici, nel caso in cui uno dei due compie solo l'achira e l'altro dei due compie solo l'anachà. O parliamo dell'achnassà, del recipiente vuoto dentro la casa e ci immaginiamo il caso in cui il povero che sta fuori passa il, come si dice, il recipiente vuoto, ma non lo mette dentro casa, lo passa nella mano del padrone di casa che sta sulla soglia e il quale lo depone dentro casa e così la ozza del recipiente pieno, alcuni minuti più tardi, nel caso in cui il padrone di casa solleva l'oggetto da dentro casa propria, lo passa nella mano dell'ani il quale lo depone per la strada dove lui si trova. È chiaro? Certo. Vediamo il seguito del testo della Mishnah, dovrebbe essere molto più chiaro questo punto. Torniamo su. Ok. Kei Tzad domanda la Mishnah E'ani omed bachutsu vahal abait bifini Immaginiamo il caso in cui il povero sta fuori il padrone di casa sta dentro. Primo caso Pashat è anni et jadò l'ipnì v'natan lettoch jadò s'el v'ala abait o s'natal mittochà v'o'zi e'ani chayav v'ala abait patuto. Il povero stende la mano all'interno cioè arriva con la sua mano dove sta trasportando l'oggetto da riempire da consegnare al padrone di casa perché lo riempia ma lo trasporta in questo modo fin dentro la casa anzi lo consegna nelle mani del Baal Abait dentro la sua casa cosa ha fatto l'anì ha fatto sia Akira che Anakha perché ha sollevato l'oggetto dalle reshut arabib dove si trova e lo ha consegnato sia al padrone di casa ma dentro casa sua quindi praticamente ha superato il confine tutto da solo oppure Natal mi toccare o zì oppure qualche minuto più tardi ha ritirato il recipiente pieno allungando la mano di nuovo fin dentro la casa del padrone di casa e l'ha tirata ha tirato fuori l'oggetto il recipiente trasportandolo e deponendolo nelle reshut arabi impresso di sé anche in questo caso il Ani ha fatto sia Akira che Anakha in entrambi i casi dunque Ani Hayab ha fatto tutto l'Ani tutta la Melakha quindi il Hayab mentre il Balabait è presente perché non ha fatto niente per quanto riguarda non ha fatto niente oppure caso inverso ha fatto tutto il Balabait il Balabait che si trova dentro casa dentro la casa sua ha steso la sua mano all'esterno nelle reshut arabim ha consegnato l'oggetto pieno il recipiente pieno dentro la mano dell'Ani che si trova per la strada l'Ani non ha fatto niente il Balabait ha fatto la Melakha completa l'ha sollevato l'oggetto da dentro casa e l'ha trasportato per la strada e lo ha deposto nella strada ha fatto Akira e Anakha al di là del confine oppure Oshenatalmito Kavihnis oppure nella direzione opposta ha preso l'oggetto vuoto dalle mani dell'Ani che si trovava per strada lo ha fatto entrare in casa sua facendogli superare il confine e lo ha deposto dentro casa sua in attesa che la moglie lo riempisse in questo caso ha fatto tutto il Balabait Balabait Kajav ha commesso la Belakha per intero e Ani non ha fatto niente quindi è patuto l'Ani si è limitato ad assistere alla scena questi sono i due casi in cui c'è un insulto in realtà sono quattro casi perché c'è Otsa Aknasah Otsa Aknasah Otsa e Aknasah dell'Ani e Otsa Aknasah del Balabait certo a questi si aggiungono altri i casi in cui i Kajav mi hanno elaborato l'estensione del divieto e quali sono questi casi i casi in cui le due persone hanno fatto ciascuno il 50% dell'operazione venendo uno incontro l'altro cioè se effettivamente il povero ha allungato la mano verso casa e il Balabait ha preso l'oggetto dalla mano del come si dice del dell'Ani in maniera attiva oppure all'inverno verso se il 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 contenitore pieno e lo abbia trasportato fuori ma il il Anì lo ha preso e ha fatto l'altra metà della strada l'altra metà dell'azione in questo caso sono entrambi esempi perché nessuno ha commesso la mela per l'intero l'altro caso ancora il 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 ha steso la sua mano all'esterno e l'Ani ha preso dalla mano per 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 ha completato l'azione di trasportare oppure ha messo dentro la mano del del Baal Abait e l'ha portato dentro casa anche in questo caso snap et tu e qui abbiamo quattro azioni o quattro mezze azioni se vogliamo passate a lì di ad lì ben natal baal abait vi tocha sono due natal le tocha e o si sono altre due fanno quattro e così ne abbiamo altre quattro dopo passate baal abait e adora chutz una venatale animi tocha o senatane tocha vignis sono quattro quattro mezze azioni in realtà in questo caso esatto i famosi sheen alba secondo un'interpretazione perlomeno sono i famosi sheen alba di cui la Mishnah ha parlato in precedenza è chiaro? chiarissimo vediamo il seguito del Bertinot e poi vediamo il eccolo qui aspetta un attimo qui siamo arrivati no? passate anì et yado urtocha cupao assalce mekabel boki carot mi balabait questo è il primo casmo in al-torano in cui l'anis tende la sua mano verso l'interno e nella mano la mano contiene una cassetta cupà o un cesto del quale riceve le pagnotte dal balabait dice e per questo la mishnah porta l'esempio di un trasporto del trasporto parlando del povero e del ricco rispettivamente perché incidentalmente la mishnah ci vuol far sentire qualcosa di più che cosa? in realtà qui il Ashir sta facendo la mizvah di tzedakah la mishnah ci fa sentire che se la mizvah della tzedakah viene compiuta attraverso l'ichilul shabbat non solo è proibito pur facendo la mizvah della tzedakah ma si viene anche puniti per questo quello che si chiama mizvah ba ba vera una mizvah che viene compiuta attraverso una trasgressione importante si confermo capito capito qui la frase va ricostruita in questo modo la nì stende la sua mano e passa la cassetta vuota nelle mani del baal abait che si trova dentro casa la la nì ha fatto tutto la nì ha fatto tutto la akira lo sradicamento dell'oggetto cioè dal punto di partenza che è sul suolo pubblico e lo ha fatto entrare nel luogo nel suolo privato del baal abait o all'inverso quando poi ritira la cassetta piena in un modo o nell'altro la nì ha fatto tutto sia l'akira che l'anah in una direzione o nell'altra in questo caso proprio per questo motivo è l'anì è possibile e punibile perché ha fatto la melacha per l'intero e questi sono i due i due casi che sono proibiti per l'anì che sta fuori cioè il caso in cui tutto da solo fa entrare il recipiente vuoto e il caso in cui tutto da solo ritira il recipiente pieno e qui Bertinolo ci nota nella mishnah un altro insegnamento ancora laterale diciamo così dove viene posata questa questa cassetta vuota o piena che sia non viene posata per terra la mishnah dice che viene posata nella mano dell'altra persona e allora qual è il problema che la mano dell'altra persona non è un reshut ai achidi in realtà perché perché la mano non ha 40 centimetri per lato sarebbe portati a pensare che la mano fosse un mecompetor data la sua piccolezza certo mi segui si si dice la mano di una persona è considerata ma con anche se non ha le dimensioni di un reshut ai achidi la mano è troppo importante pur essendo di piccole dimensioni per essere considerato un mecompetor e quindi è considerata reshut ai achidi a tutti gli effetti e anche se ci viene richiesto che la achira sia fatta da un luogo dove ci siano almeno 4 tefakhin per lato e anche la anachà in un luogo che abbia le stesse caratteristiche e qui non ci sono perché la mano è troppo piccola la mano dell'uno o dell'altro è troppo piccola nel Talmud si dice che la mano di una persona anche se non ha le dimensioni è considerata come se le avesse perché perché la funzione della mano è proprio quella di prendere e distribuire gli oggetti anche se questi oggetti possono essere molto grandi le capacità prensili della mano umana sono enormi rispetto alle sue effettive dimensioni fisiche certo il balabait se l'ani ha fatto tutto il balabait è patur solo patur normalmente quando troviamo patur nelle misnaiot di shabbat che riguardano shabbat si intende patur avalassur qui invece patur mutar gamur non è semplicemente esente da pena è permesso perché perché in realtà il balabait non ha fatto niente dal momento che ha fatto tutto il ani non ha fatto nulla viceversa l'altro caso che è proibito nella Torah è quello in cui ha fatto tutto il balabait e il ani non ha fatto niente e quindi dice e quindi abbiamo qui due divieti della Torah commessi e infine passiamo ai casi dove il divieto è solo rabbinico cioè i casi in cui ciascuno dei due e ha fatto metà dell'azione in un sesso nell'altra passate anni e avide anni a kira meresù tarabbim e natal baha alabait mitokha veiniach mitnim e avet lei baha alabait anach meresù taiachid questo è il caso in cui il ani ha porto l'oggetto al baha alabait e il baha alabait lo ha ritirato e ha fatto l'altra metà dell'azione o viceversa o se natal tocca e avide lei baha alabait a kira meresù taiachid in tutti questi casi in questi casi dove tutti e due hanno collaborato per la fuoriuscita o per l'ingresso dell'oggetto eccetera eccetera a seconda dei casi nessuno dei due in realtà ha fatto la melacha per intero e quindi sono tutti e due esenti dall'obbligo di portare il sacrificio sempre che abbiano commesso la trasgressione però dice comunque hanno la proibizione di farlo perché come ti spiegavo prima ciascuno dei due arrivi a compiere prima o poi la melacha completa e quindi a trasgredire il sabato in la Torah naturalmente è forte e qui abbiamo due proibizioni in più di istituzione rabbinica una a carico del povero che sta fuori l'altra a carico del padrone del ricco che sta dentro casa però è interessante che noi abbiamo parlato di 4 e 4 non di 2 e 2 esatto qual è il punto qual è il punto che la Mishnah in realtà preme la situazione preme la posizione di chi compie solo la Akira perché chi compie solo la Akira è soggetto al rischio di completare l'azione facendo da solo anche la Anah ah beh certo non di solo la Anah la Akira è già stata fatta dall'altro e non c'è più il rischio che possa arrivare a compiere l'azione per intero bellissimo perché non considera il doppio per ciascuno Akira le Anive Akira le Valabait Anah le Anive Anah le Valabait e cioè il caso in cui l'Aniv fa Akira o il caso in cui il Balabait fa l'Akira e anche il caso in cui l'aspetto per cui l'Aniv fa l'Anah e il Balabait fa l'Anah questi ultimi due non interessano perché questi due non interessano perché chi fa solo l'Anah non arriverà mai più a fare l'azione completa a questo rischio il soggetto chi fa solo l'Akira non le prende in considerazione capito certo il Rambam ha anche lui un lungo lunghissimo commento a questa Mishnah come puoi immaginare ma io ti ho semplicemente evidenziato quelle tre fra due frasi in cui il Rambam spiega risponde alla domanda perché la Mishnah e la Gemara di Shabbat cominciano parlando dell'ultima delle 39 melachut ok si l'ho anticipato ok perché comincia con l'ho zah benché nel nel capitolo 7 la seconda Mishnah dove si parla dove c'è l'elenco delle melachut questa figura per ultima fra tutte le melachut questa è la più frequente non esiste vita sociale senza trasporto di qualche cosa certo e su questa cascano la maggior parte delle persone l'altro problema che questa melachut pone rispetto alle altre è che non sembrano melachut perché quando parliamo di melachut parliamo di azioni produttive che generano qualche cosa che prima non c'era questa melachut non solo le fiche non soltanto non richiede niente per essere per essere trasgredita per essere compiuta ma non produce neanche apparentemente niente se io cucino prendo un cibo crudo che non potevo mangiare e lo rendo commestibile se io costruisco una casa se io accendo la luce creo qualche cosa di nuovo che prima non c'era ma se io trasporto un oggetto l'oggetto esisteva anche prima che io lo trasportassi e per questo conosco molti buoni ebrei che osservano il Shabbat ma fanno fatica ad accettare l'idea del divieto di portare non è facile al kenik di ma perciò la messa per prima la misna le asir alea le fishe im midrashah atia questo è un altro punto ancora che la si evince attraverso un'interpretazione del versetto non è una cosa così diretta insomma presenta da un lato degli aspetti di debolezza ma dall'altro degli aspetti di di forza per cui i Kachamim hanno ritenuto di trattarla per prima ci sono altre spiegazioni che vedremo poi più avanti e credo che qui penso che per oggi sì era l'ultima parte della fonte wow abbiamo cominciato alla grande aspetta che faccio la fine della registrazione